Ciao dal vostro ukulele coach! Brevissimo video per annunciarvi una novità, e cioè che sta partendo un canale di chitarra da me ideato, quindi il titolo è Hobby Chitarra. Per quanto riguarda questo canale non temete perché metterò sempre l'Ukulele in primo piano, ma ho deciso perché visto che mi hanno chiesto in molti di fare qualcosa dedicato alla chitarra, di aprire un secondo canale proprio dedicato ad essa. Mentre per quanto riguarda questo canale aspettatevi tante altre belle novità. Ciao da Ukulele Coach! Ovviamente per gli interessati alla chitarra vi lascio qui sotto il link dove andare a vedere il nuovo canale dedicato alla chitarra, appunto Hobby Chitarra è il titolo del canale. Troverete un primo video di benvenuto e poi i primi video legati ad un corso di 20 lezioni.